Ok ragazzi, abbiamo cambiato provincia, oggi Padova, Piazzola del Brenta e siamo con Paolo e Elisa. Ciao a tutti. Epp. Epp. La prima domanda che ti ho fatto, cosa vuol dire Epp? Esatto. Sì, allora Epp significa Haere, Elisa e Paolo, perché oltre ad essere compagni nella vita, siamo compagni nel lavoro, perché siamo marito e moglie. Non ti bastava a casa, no? No, no. Me la porto anche sul lavoro. No, bisogna soffrire. O viceversa. O viceversa. Bisogna soffrire nella vita. E spiare i propri peccati, fino in fondo. Sì, e lui ne ha tanti da spiare evidentemente. A parte gli scherzi. Noi siamo in questo negozio da un anno e mezzo, ci siamo trasferiti. Prima eravamo sempre qui a Piazzola, ma in un altro posto. Questo è più grande, più piccolo. Perché prima abbiamo fatto 19 anni in un salone unico, questo è a due piani, e piccolino, perché erano neanche 50 metri quadri, sempre maschile e femminile, e avevamo la voglia proprio di esplodere. Gli stava stretta. Sì, era proprio stretta. E quindi abbiamo trovato questo, e adesso è un anno e mezzo che siamo qua. Pronti via sul pezzo. Sì, felici. Abbiamo dato un sogno, insomma. Intanto lo state vedendo in sovraimpressione, salone, parrucchierando top selection. Complimenti, davvero. Grazie. Nulla da dire, c'è proprio davvero. Grazie. Opera dell'architetto, opera tua, sua? Ci abbiamo lavorato assieme, in base ai nostri gusti, e poi è sempre uno un architetto, insomma, abbiamo preso l'idea, analizzato le nostre e le sue, e poi è venuto fuori questo. Insomma, soddisfatti, molto soddisfatti per ora. Complimenti per i due ritratti. Ah, grazie. Di chi è stata l'idea qua, però? Dell'idea. Vedo il tocco femminile o no? Sì, c'è anche parte del tocco femminile. No, è mio. In comune, dai. In comune, poi il grafico ci ha dato una... Una mano. Sì, sì, ci ha dato una gran mano il grafico, è stato bravo. Infatti piace a tutti. Infatti l'ho notata subito. Allora, perché dovrei scegliere questo salone se fossi parte del popolo consumer? Nel senso, io vengo qui per... Qual è la prima cosa che dovrei venire a chiederti? Cioè, vengo qua perché ho questo problema, vengo qua perché tu sei il numero uno di... Qual è la vostra sincerità? A noi piace, diciamo, lavorare specialmente sul... Non è che... Per dirti adesso, vi analizzo un attimo la cosa, noi due, io gestisco il reparto maschile e lei gestisce il reparto femminile. L'hai fatta facile. L'hai fatta facile. Nel mio caso, non mi soffermo sempre solamente al servizio taglio, che magari nell'uomo può essere, voglio dire, la cosa più semplice, nel senso che tutti cercano quello, ma cerco anche di curare un po' la cute, più che il capello la cute nell'uomo, perché il capello, insomma, non tanti hanno i capelli lunghi, anche il capello però mi piace trattare il benessere cutaneo, che il capello sia sano, che la cute sia sana. Dunque l'obiettivo è anche lavorare su questa prospettiva, insomma, non soltanto fine taglio, fine servizio barba, ma curare, insomma, il servizio a 360 gradi. Ok, quanto fa la differenza avere una cute sana sul capello rispetto, anche per quando magari vai a fare tutta una serie di servizi? Eh, fa la differenza molto, perché voglio dire anche solo avere, se ti risolvi, hai qualche piccola sensazione negativa, tipo qualche prurito, anche la forfora, la forfora sappiamo che è una cosa fisiologica, che è anche difficile da curare, però è una cosa che si può controllare, se si hanno i prodotti giusti, si controlla e dunque credo che dopo anche un benessere, la sensazione positiva di avere la cute igienizzata, pulita, purificata, sia una cosa che voglio dire anche al cliente stesso, dopo nota e fa piacere, insomma. Visto che hai scelto Depo o hai scelto? Noi lavoriamo con l'azienda che è la Z1 e con la Depo, a livello di linea maschile, a livello di linea cosmetica e stiamo lavorando a livello di trattamento, diciamo, con il Belif, che è questa azienda che lavora con questa filosofia botanica, naturali, aloe vera, acqua termale e va, lavora molto sul concetto di sistema di igiene cutaneo, lavorano molto sul creare l'alimenti ideale, perché il ciclo vitale del cappello continui e appunto va a lavorare su detossinare, purificare la cute, poi va a lavorare su un secondo step che è l'idratazione e poi a livello di nutrimento finale, proprio di bulbupilifero e cappelli. Ci troviamo molto bene, insomma, sono molto soddisfatto. Periodo un po' critico per i capelli, per me e te abbiamo già dato. Noi sai che abbiamo altri, siamo su un altro pianeta, siamo troppo avanti. Siamo troppo avanti. Però le donne, anche loro, cominciano ad avere qualche piccolo problemina in questo periodo, alcune è un po' lo stress, la vita, è una linea che va bene anche per le donne? Molto bene, però c'è la parola. Ed ecco, all'esperta, all'esperta. Sì, anche nel reparto femminile come nel reparto maschile abbiamo praticamente la stessa filosofia, quindi è quella di curare proprio il benessere della cliente che parte in primis dalla cute. Ecco perché ci siamo appoggiati dopo varie ricerche alla linea della belief, perché appunto come ti spiegava Paolo è proprio una linea botanica e che mi va proprio a detossinare la cute, perché come dicevi giustamente tu, una cute detersa in un modo giusto e pulita poi migliora tutto quello che è colore, taglio. Il colore è un'altra cosa su un cappello sano. Sicuramente, e quindi noi stiamo cercando di specializzarsi e comunque di mettere proprio l'impronta su quello che è il benessere della cute e dei capelli, perché poi nel mondo femminile il capello ci tiene, quindi anche usare prodotti con appunto degli additivi all'interno per colori che comunque siano, noi abbiamo come linea la Goldwell e poi anche come seconda linea la She's. Seconda linea in ordine cronologico. Sì, diciamo che ecco così, e quindi ecco questo è il nostro punto di partenza e speriamo insomma un po' lavorandoci di arrivare insomma a trasmettere questo alle clienti. Come siete capitati in questo mondo della conciatura, questa missione per fare felice le persone che sono un po' smarrite? Beh allora, io facendo vari corsi, beh vabbè penso che tutti da piccoli volevano fare i parrucchieri e questo è un sogno che nasce un po' da piccolini diciamo, poi nel proseguo degli anni facendo tanti corsi ho capito che non era solo il fare i capelli, perché fare i capelli sì, è un lavoro, ma poi quando vedi le persone che vengono da te e stanno bene e sono contente e riesci a capire quello che vogliono e le vedi uscire proprio con il sorriso negli occhi, quello secondo me è la cosa più bella che ti può regalare e quello è quello che insomma io... Gli rifate rialzare la testa, no sai, l'autostima di se stessi ti rende sicuro e ti fa approcciare al mondo in maniera diversa. Quando una persona sta bene con se stessa non ha nessun problema, sta bene con tutto, giusto? La persona deve stare bene con se stessa quando stiamo bene con noi stessi e anche vedersi bene con i capelli a posto, con un taglio a posto, è quello che fa la differenza, voglio dire. È quello che fa la differenza. Esatto. Ok, quanti siete? Qua abbiamo altri collaboratori? Siamo in cinque, abbiamo tre collaboratori e noi due. E voi due. Mi piace che si sono messi alla fine, abbiamo e poi noi due. No, siamo noi due e gli altri. No, perché alla fine la squadra è quella che ti porta avanti da soli. Il team. Non si va da nessuna parte. Da nessuna parte. No, è vero. Il team è sempre una forza aggiunta. Coeso verso un obiettivo. Esatto, dopo se hanno lo stesso obiettivo, ancora di più, insomma. Ecco, e ci siamo spostati nell'altra lada del salone, prima di andare su perché c'è un altro piano che ci aspetta. Sì. Come ti stai comportando con queste normative nuove Covid? Hai scelto il monouso o hai scelto una ditta che ti sterilizza tutto? Allora, noi abbiamo optato per una ditta che ci porta ogni settimana tutto il materiale lavato, sterilizzato, imbustato. Quindi ogni cliente ha il suo asciugamano, la sua mantella a taglio e questo vedo che la gente l'ha apprezzato. Ho visto che avete fatto proprio una busta particolare con questa apprendizione. Sì, abbiamo personalizzato le buste e dove dentro appunto mettiamo il kit per ogni cliente. Diciamo che anche prima c'era questa cosa nel senso... Diciamo sempre che abbiamo messo soltanto la mascherina e basta perché non è che vedo che hai cambiato granché. No, perché noi comunque penso tutti insomma come settore eravamo già pronti a questa cosa. Abbiamo intensificato ancora di più questa cosa. Ecco, i clienti vedo che apprezzano insomma. Sì, sì, sì. Ok, allora ti lascio andare di sopra perché sono cose che ti chiamano. Intanto catturo lui perché vedo dei macchinari, sterilizzazioni, ossigeno, così voglio fare un po'. Ok, ci vediamo dopo. Allora, Oxygen, com'è che si dice? Oxygen, sì. Sono stato quasi. Che serve? Allora, questa è una macchina d'ossigeno, non è altro che un macchinario e all'interno questo minerale si chiama zeolite, assorbe l'aria e lo zeolite, questo minerale ha la proprietà di dividere l'anidride carbonica dall'ossigeno e poi emana attraverso l'aerografo ossigeno al 90% in purezza. Ok. Cosa serve? Serve ad aiuto a fare i trattamenti perché l'ossigeno fa da veicolante al prodotto innanzitutto e poi accelera il metabolismo cellulare, antiradicale libero, antimacchiamento per la cute, un trattamento a livello cutaneo. Fatto con una certa continuità si possono avere anche dei risultati, sotto forma di forfori, capello grasso. Quindi uomo o donna? Uomo o donna. Può essere utilizzato nella donna con l'acido ianeuronico, si lavora sulle punte e va a fare una vera e propria ricostruzione all'acido ianeuronico. Ok. Fatto una volta così è una coccola perché senti questa sensazione di freschezza che poi col trattamento insomma viene accompagnato da un massaggio e si ha questa sensazione di benessere. Quindi anche in questo periodo, sai, ottobre, anticadute, non è proprio il termine giusto. Sì, esatto. Comunque diciamo trattamenti per la ricrescita o quant'altro. E va anche ad intensificare il cuoio del cappello. Cioè, si può essere inserito insieme nel trattamento. Cioè, quindi faccio prima questo e poi metto la famosa flada. Esatto. E vai a lavorare o in un modo o nell'altro. Sono varie tipologie di trattamento che uno può decidere di fare. Si va a lavorare o in un modo o nell'altro. E anche con il colore compatibile. E anche con il colore compatibile però alla fine voglio dire. Quindi prima metti il colore e poi... Sì. Poi dipende sempre dal trattamento che uno vuole fare. Perché se lavori sulla ricostruzione logicamente lo rifai. Alla fine devi fare il trattamento chimico, diciamo, tra virgolette, il colore. E allora vai a fare il trattamento tipo all'acido ianeuronico. Ti va a chiudere le squame e ti lascia il cappello settoso. Ok. Allora questo periodo abbiamo detto ci vedete con la mascherina. Come sta andando? Cioè non tanto come sta andando come affluenza. Proprio come percezione. La cliente ha di nuovo... Sai adesso è ritornata questa cosa qua. Ha avvertito qualcosa oppure erano già stati educati prima? Siamo virgolette già un po'... Siamo già indirizzati. Sappiamo cosa ci aspetta e quindi la cliente viene ok. Mi siedo e mi metto la mascherina quindi vengo comunque. Oppure avverti qualcosa di strano nell'aria? Si sente un po' parlare. Per il momento ti dico non avverto ancora questa, tra virgolette, tensione. Mi auguro insomma che non si abberta più di tanto. Cerchiamo di comportarci nel miglior modo possibile a livello di prevenzione, di protezioni varie. Come ha già detto lei Lisa. Anche prima c'era un buon sistema comunque di genere perché sono molto maniaco su questa cosa. E adesso ancora di più voglio dire. Però la percezione per il momento è ancora un po'... Qui sembra di entrare in una sala operatoria ragazzi. No, si cerca... No, veramente anche prima era una cosa qui di mantelline ferro sempre sterilizzati e via dicendo. Adesso ancora di più. Poi voglio dire... Nulla è lasciato al caso. Nulla è lasciato al caso. Ancora di più adesso insomma. Va bene, facciamo un salto di sopra a vedere la seconda parte. Poi vi lascio con lei. Ok, secondo piano no? Questa è la zona della consulenza da dove inizia tutto. Sì, questo sì. Questo diciamo che è il mio mondo. Poi ogni tanto Paolo viene a sbirciare e viene a controllare diciamo. Quindi praticamente l'uomo non può accedere o...? Previa autorizzazione. No dai. Diciamo che abbiamo voluto creare un discorso più intimo. Perché tante volte la donna... Adesso sì, c'è sto unisex. Ma abbiamo percepito noi lavorando prima in un salone dove era tutto assieme che la donna comunque ha bisogno del suo spazio. Anche l'uomo. Anche l'uomo. Anche l'uomo. E quindi automaticamente giù dentro. Eh sì. E quindi siamo riusciti a creare questo ambiente solo per le donne. E qui nasce tutto dalla consulenza a quello che insomma è poi tutto il proseguo insomma. Ma l'uomo colora anche oggi più che mai o no sì? Ho pochi casi magari clienti un po' più storici però il ragazzo giovane ha pure colori un po' moda. Allora se devo colorare vado oso. Se schiaccio sull'acceleratore. Oppure si lavora sul camouflage. Qualcosa di leggero. Abbiamo un prodotto che è molto veloce da fare. Dura cinque minuti. Anche una breve durata poi nel tempo. Ed è quella cosa magari per la cerimonia in sé che va proprio a creare questo effetto camuflase. Questa mascheratura ma non copertura. Ok. Quindi svecchia un po' diciamo. Svecchia un po' ma mascherare il... Vi fa sentire più sicuri. Esatto. Che anche noi uomini siamo un po'... Però sì anche l'uomo. Anche l'uomo. Ultimamente sempre di più. Sempre di più. Chi può. Chi può. Chi può. Chi può. I tuoi studi. Io come ti dicevo prima era sempre stato un sogno da piccolina che però i miei genitori all'inizio non volevano che facessi questo lavoro. E' lì. Classico retaggio. No. No. Rocchiero. No. Devi fare l'avvocato. Negli anni il nostro settore il nostro lavoro è cambiato tantissimo. Cioè da da come era visto anni fa ad oggi ha avuto un'evoluzione pazzesca. Io comunque ho fatto ragioneria. Ok. Che però ti dirò che sotto certi punti di vista sono stata anche contenta. Perché così sai leggere un bilancio. Sì ma ma anche perché ma anche perché una base di studio vedo proprio anche adesso è molto importante e poi ho fatto le scuole di parrucchieri e poi giustamente pratica e corsi tuttora sempre. Tuttora perché non si smette mai di imparare. Mai. Mentre tu? Idem per me. Anch'io sono partito da giovane. E' stata un po' una scelta classico lavoro estivo dal barbieri di paese che poi però si è tramutato in un lavoro. Ho fatto l'Accademia Anam di Padova. Ok. Anam Padova, Lino Fabiano. Bravissimo. Ciao Lino. Ciao Lino. E da lì è partito un po' tutto il percorso. Adesso sono già quasi trent'anni che lavoro. Ok. E lei dove l'hai incontrato? Lei... Così vediamo un po' di spettacolesso ragazzi. È proprio una vita che siamo assieme. Perché vorrei parlare di 25 anni ormai forse di più. Non ricordo un tempo in cui non siamo stati amici. Diciamo così. È partito da giovane, ci conoscevamo forse anche prima. Sì. All'epoca io appunto era a scuola. Era a scuola. Lui faceva già questo lavoro, io no. Compagnia, amici. Eh da lì cosa nasce e cosa. Ci siamo trovati a lavorare insieme e a fare due figli. Un lavoro che ti ha dato, cioè una professione che ti ha dato un lavoro e una famiglia. Esatto. Esatto. Diciamo questa è proprio... È proprio in simbiosi. Cioè famiglia, lavoro... Infatti noi parliamo praticamente sempre di lavoro. Sempre. Sempre è facile, voglio dirlo. Magari che c'è... Non sempre è facile. Ah no, perché quando esci da qua ti devi portare anche qualche problema a casa. Però insomma l'importante è essere sempre coesi, avere un unico obiettivo e alla fine insomma... Si va. Sì. Anche ci sono risultati. Sì, sì. Però... Siamo contenti. Sempre sul pezzo. Va bene. Dai, noi proseguiamo nel nostro giro. Nel frattempo ragazzi, se siete entrano a Padova, salone parrucchirando Top Selection, è davvero, davvero un posto da metterci dentro la testa. Grazie. Grazie. Ciao a tutti. Grazie. Ciao. 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 Ciao.